Un'improvvisa grandinata primaverile si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi a Pian di Rose nel comune di Sant'Ippolito. Le foto e i video girati dai nostri reporter di strada mostrano una imbiancata con chicchi di grandine che hanno costretto molti automobilisti a fermarsi. È andata peggio a quattro conducenti che lungo la superstrada avevano accostato a lato della careggiata ma sono finiti nel fossato. Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Urbino. Allagato anche il sottopasso della zona industriale dove sono intervenuti i vigili del fuoco e il traffico è stato temporaneamente deviato. Al lavoro, come ci ha riferito il sindaco Marco Marchetti, anche la protezione civile e i dipendenti comunali. Diverse infatti le strade in vase da acqua e fango. La protezione civile regionale alle 13.30 aveva emesso un allerta meteo per temporali di livello giallo. Il provvedimento resterà valido fino alla mezzanotte di domani, venerdì 21 aprile. In particolare il bollettino indica che dal pomeriggio di domani sulle zone collinari e montane si avranno temporali sparsi anche di forte intensità.